dunque eccolo qua il pliskin questa volta Theo Trainer e questa famosa adesso stanno scoppiando tutti quanti come quando coli qualche liquido in un formicaio le formichine escono fuori marzolla questo, quell'altro dunque do una risposta avendo sentito adesso Theo persona tra l'altro molto simpatica molto alla mano e ci tiene a fare vedere che lui è natural per cui di conseguenza come ho detto prima anche a marzolla i suoi prodigiosi chili messi sopra in un secondo da un anno all'altro la gente non è tutta stronza e stupida che si può allenare 80 volte al giorno la natura dà dei blocchi lo so benissimo perché sono passato da una parte all'altra ora Dennis ti rispondo prima tecnicamente e poi per quanto riguarda le discussioni per quanto riguarda haters o things like that stuff like that l'illustro è motivato so che ti piace l'inglese ogni tanto ogni tanto da una cameretta magica ti dico una paroletta tirare fuori altre persone che sono HP o raponi o roba varia che sono palesamente dopati anche perché comunque sia con la cornetta l'hanno detto al sottoscritto che voi ci crediate o no e per il fatto che comunque stai facendo diciamo una 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 discussione con qualcuno a un certo punto ripetetelo insieme a me Dan FSG Dan FSG e Foodspin ti sta tenendo un po' d'occhio quando e se usciranno quelle storie famose fatte da me da cattivissimi su qualcuno su un gruppo di persone che comunque sia a quanto pare tu hai confessato questo tuo uso ma palese per chi fa questo sport giustamente una persona che non fa questo sport 100.000 dei tuoi fall cos'erano 180.000 200.000 mi sembrano molti di meno non vorrei dire cacchiati 173 erano di più e la barca comunque affonderà quando ci sarà diciamo la prova di quello di cui stiamo parlando sperando che poi possano avere le varie autorizzazioni chiesto qua e là per cui poi magari il Foodpink ti darà anche un calcio in culo e finalmente quello shaker te lo sbatterai dove dico io al sapore di cimurro e chi te stra vive comunque il fatto di prendere per il culo una persona perché è un metro 173 non c'entra nulla i culturisti i mister Olimpia e i pezzi grossi del bodybuilding quando sono tanto alto fanno fatica a ottenere delle proporzioni in base alla loro altezza Rapponi senza maglietta non si può neanche vedere quando cominciò a fare seriamente e quando cominciò a stare dietro a Presti poi a un certo punto le cose hanno cominciato a dire ci vuole un po' troppo impegno qua ci vogliono magari un po' troppo pezzi di fegato e di conseguenza poi sono spostati a fare i video con le loro felpine del cazzo e basta il fatto che comunque sia quanto ho capito i controlli per quanto riguarda tante federazioni comprese Babacar un altro enorme che era in una federazione natural che poteva andare a fare l'Olimpia non so in quale versione ti fa capire quanto cazzo possono valere i protocolli anti-doping se qualcuno non vuole sono storie allucinanti sul fatto che Tyson comunque usasse un pene finto come tanti altri all'anti-doping per cui non mi raccontare cazzate a me so che il nostro Teo con i bei baffetti che tu prendi per il culo ma tu sei brutto come l'amico di Bart Simpson mi ricordo come Milhouse e assomiglia anche un po' a quello della famiglia Adams Lerch per cui di bellezza non puoi proprio parlare per quanto riguarda il fatto che appunto sono tutti più o meno bassini quelli che comunque hanno più guarda anche Bonomo che non è neanche 1,75 come diceva lui 1,69 e grazie comunque al fatto che non sia altissimo sia lui che Sarchiapino hanno delle masse soprattutto insomma eccezionali abbastanza Sarchiapino poi ha un braccio che se non sbaglio ha almeno 48 cm che è tanto 48 cm è tanto soprattutto quando è tornito come Dio comanda tu non sai di allenamento ho visto degli allenamenti che sono paurosi per cui parliamo di allenamento e di tecnicismi e non di un video di 29 minuti che è il simbolo della paura che ti sta scorrendo superlano per arrivare tecnicamente quando si fa un bulk come lo chiamate voi bulk ma che Dio vi possa avere in gloria quando si è in questa fase di massa che ha fatto in modo io sto guardando delle braccia su questo tuo tavolo della cucina dove stai parlando dove è non più che un ne più ne meno che un cotechino per cui non ha forma non serve niente aver messo tutti quelli che a meno che una persona non si aspetta come dici tu di arrivare a una definizione avendo coperto avendo fatto quello che si doveva fare quando si diventa quando si magna tantissimo ma si fa uso di determinate qualcosa per cui si spera anche che la forza ottenuta mettendo del peso che poi è una cazzata e una diceria degli anni 90 possa poi sporcando e togliendo via tutto perché quello che hai fatto vedere quell'immagine che ti ho fatto vedere dove tu sei tiratissimo non ci arrivi neanche 80 kg per cui di conseguenza tu aspetti di arrivare togliendo tutta la merda che hai messo sopra avendo poi in regalo tot chili puliti qui più 5 questa è una stronzata tremenda 5 kg di muscolo in un anno è meramente una presa per il culo per tutte le persone se tu sei una persona che hai avuto del successo se tu sei una persona che dice ma haters che cazzo fate mi sembra in marzolla un altro deficiente ma a 40 anni vieni a rompere i coglioni a me ma perché cosa c'entra ci vuole l'età per appunto una persona che ha fatto questo sport che ha fatto cure fino a ieri che può dire le cose come stanno che non ha detto mai bugie una persona che viene a dire ma guarda che io voglio fare questa cosa qua una persona che ha una certa età si sente presa per il culo non il ragazzino è la presa per il culo e sono i mille tot euro che prendi al mese da foodspring che comunque sia non è contenta di quello che succede di quello che è successo ed il fatto di avere la botte piena la moglie ubriaca cioè tu di successo se papà non caga la fresca non puoi averlo nel bodybuilding non hai avuto l'esperienza non hai avuto la costanza hai fatto video dove comunque sia facevi il pirletta giocavi con questo cuccavi la mamma e l'amichetta non dico che tu non sia una persona simpatica che può avere il suo ci sono dei video dei canali che non danno un cazzo come quello di Rapponi Rapponi prende un video te lo monta su ti dice due cazzate in un italiano nostro gotico e poi 50.000 visualizzazioni ti manda una querela non sai che cazzo fare Marzallino ti manda il video facendo la lacrimuccia ma no non è vero ti fa vedere la cosa ci sono un sacco di canali che non servono a un cazzo però quando una persona si incazza quando una persona dice io vado a fare anch'io le gare e anch'io le vado a fare fpn e tu mi vieni a prendere per il culo sapendo anch'io di questo tuo giro di di cose che stai facendo che poi tra l'altro sono state confessate ad amichetti e roba varia ma se arriva la risposta e se arriva diciamo l'ok lì veramente mi sa che vai a vendere case col papà il fatto di prendere per il culo fisicamente una persona non ti rende onore il fatto di tirare 30 minuti e tu pensa una persona che dovrebbe avere 40-45 anni forse si sta rivolgendo uno come me che dovrebbe avere da prole per casa e menti che io ho un ragazzino che segue appunto una persona come te cosa dovrei fare io dovrei essere contento dovrei essere una persona che lascia aperte perché ha 45 anni ti rendi conto di che cazzo stai dicendo manchi di rispetto a una categoria infinite di persone comunque il progetto per quanto riguarda io non penso che naturalmente tu possa comunque da quando hai cominciato a quando gareggerai avere il tuo peso diciamo di quando sei partito con più 5 kg è una presa per il culo chiaramente non tutte le persone che fanno questa cosa qui possono capire che cosa sta succedendo anche perché io vedo anche una devoluzione probabilmente sei stanco nervoso e tanto che sei sotto e stanno cominciando a darti fuori i nervi infatti Teo ha cominciato a cagarti il cazzo su tiktok dove tu facevi magari non su youtube dove non ti cagavano già di meno ma su tiktok dove evidentemente tu eri quello che cominciava e spatroneccio è ma bisogna sempre fare i conti non si può avere come ho detto prima la botte piena e la moglie ubriaca vedremo comunque se diciamo quello che succederà il tuo progetto è destinato a fallire per il semplice motivo che tra l'altro non sei neanche una persona che dice mi massacro ho un metodo so come allenarmi e stai sotto a una persona che è palesemente per aver fatto le gare e per la forma dove si è presentata dopata che ha cercato di tirarti i quarti comunque dovessero venire fuori le rivelazioni che abbiamo in serbo o qualcuno ci dia diciamo l'autorizzazione saluto te o te o non ti preoccupare la verità viene sempre fuori e ti consiglio di chiamo e chiamare Rispoli e lo fai andate a vendere i casi insieme sotto il cartello di papà e lo fai e lo fai e lo fai